con il nostro sostenitore del Messico, Aztecas FC, si chiama la sua squadra e per la prima volta fa l'esordio, grazie mega, ci proverò, ci proverò per la prima volta fa l'esordio, diciamo, nel format dell'amichevole e dell'amichevole straniera ok, ho messo tutto bello, ti scialo qui con Misaki, 1.021.000, 1.021.000, più o meno siamo là, dai sta selezionando la formazione, abbiamo messo il limite a S30 come CCS2 e niente, vamo a vedere questa sfida tra Cataldo e Sora, la Bugliese C vs Aztecas FC ok, calcio di inizio, andiamo allora, ma voi dà fastidio il volume del gioco, però io per giocare è bello io non conosco la formazione di Sora, se Sora ha un vantaggio è che lui conosce la mia io la sua non la conosco mi metto un po' a poco con i portieri, però dai, vediamo for me, chi si ama dai, allora vediamo questa questa amichevole internazionale, ce la stiamo giocando in live, chiaramente però se si viene una bella partita, o comunque la mettiamo nel format anche per i nostri amici messicani from Mexico, Sora ok, allora questa è la formazione, oggi proviamo Radunga per la prima volta eeeh, va bene nissica, quanti mouse mi piglio qua e questa è la formazione del buon Sora allora, quindi c'è Benji, allora direi di andare subito all'offensiva all'offensiva con l'Enders si? si, ok allora, palla Takeshi, andiamo subito all'Enders ok facciamo uno due e vai uno due e pedalare per questa amichevole internazionale poi scriviamo Italia vs Messico allora, appunto siamo là si, anzi no, non ha di più lui non ha di più lui il bond, si ok, calciamo con l'Enders Benji e chi le vetti stranieri, no? eeeh, poi potevo fare anche un'azione un po' più calma con Misugi e vabbè, comunque dai eeeh, dando la Holly che aveva pure il pantaggio colore vabbè, comunque vediamo un po' l'abbiamo preso così e facciamo così io lo skill ribassato forse potrebbe darci qualche difficoltà ah, lui c'ha eeeh Schneider allora, benji ha messo il barabondo il bandaggio di colore però l'Enders ha un bel limpido vediamo un pochettino ah, ho cacciato gli stickers ho cacciato mi spiace averli cacciati eeeh aspetta prima friscia di stazione e poi esce manco lo stickers e gol gol, 1-0 per noi no, si fa mandare gli stickers ok 1-0 per noi voi che siete pure voi che stai mandando gli stickers quindi partiamo subito in bandaggio sì, no, ma infatti ho detto oh, è la maglia dell'Italia la camisetta italiana sola ma adesso c'ha Michael proprio diciamo che il nostro account è perfetto qua ma ce n'ha parecchi devo dire la verità che possono possono farci gol a Salinas quindi toccherà reggere il primo tempo per poi secondo tempo perlomeno dimezzare il numero di giocatori che ci possono fare gol anche se poi diventano pericolosi gli attaccanti ma voglio dire insomma chiaramente qui Michael l'infermabile passaggio vediamo se c'è un autointercetto o qualcosa la dunga che non attiva l'autointercetto non so perché ma prende palla però perché è un mostro quindi l'esordio ufficiale di la dunga avviene così allora qua potrebbe essere una bella azione se l'intercetto non c'è sì e questa potrebbe essere una bella azione perché qua se entriamo in aria Benji dovrebbe volare teoricamente anche se lui attiva il full power tecnicamente dovrebbe volare teoricamente dovrebbe volare teoricamente dovrebbe volare cale il primo gol sono l'esordio ufficiale di Gianluca allora Olli 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 entra in aria Olli questa questa è una bella una bella occasione per noi difficilmente Benji può parare un tiro ad Olli super dream solitamente però vediamo vediamo questo dovrebbe essere il 2-0 tecnicamente comunque lui penso che attiverà il power shot anche perché ha preso il gol quindi il power shot dovrebbe essere bello alto a lui ma in particolare il 2-0 sarebbe importante perché un gol non è difficilissimo da prendere contro questa formazione per noi è perché ma ho apparato incredibile R.D.G. R.D.G. A.N.I. va bene va male ma va bene allora come ce la giochiamo adesso contro Cozza non conviene andare a Messing però è proprio vero che forse contro R.Vaul conviene andare a Messing qua per fare quello che voglio fare io contro Cozza quello che voglio fare io è un passaggio a un mio caro amico solo che prolly ci sono tanti che sono solo in aria quasi quasi facciamo un tiro semplice buonanotte sì sì ho votato però ho optato per un tiro semplice optato per un tiro semplice e no il mio equipo non è solo giapo però no è solo giapo però sì lo stanno 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 giapo giapo eh e ora arriva un altro un altismo un altismo ne arriva chiaramente qui facciamo il passaggio perché poi anche perché c'era Dunga la e lui fa la che si diverte tira aia la miseria e qua è difficile passare è difficile passare perché riesce a portare a fargli capire che facciamo uno o due se lo vede in live magari tiriamo anche se comunque qua voglio dire insomma tendenzialmente dovrei uno veicchio di attaccanti però se tu vuoi continuare passiamo ma voglio tirare no no ci ho pensato troppo ci ho pensato troppo ci ho pensato troppo ci ho pensato troppo speriamo che tira a questo punto perché qualcosa dovevo fare io è tirare sì ma in batta ha visto che avevo fatto un intercetto dovrebbe passare letteralmente diventare abbastanza complicata per Benji il chiedi ripeto è alto se per noi siamo un po' angolati però comunque Benji è pure in difficoltà di stamina Benji è pure in difficoltà di stamina vediamo un pochettino vediamo un pochettino vediamo se para o no la parata la parata la parata gagna Genzo gagna ciao Francia benvenuto stiamo facendo vamos dice sola stiamo facendo un amichevole con il nostro iscritto messicano come va Francia hai scelto poi capisce me a chi Miguel si va a ganare si va a segnare non solo che mi dice a chi Miguel va a contrattacare va ve la lasciamo guarda infatti io volevo dire ai miei di fermarci con gli attacchi ma ormai è troppo tardi abbiamo fatto parecchi punti veramente abbiamo vinto tutte 33 su 36 ho lasciato io poi non mi ricordo più il resto però insomma l'avevo messo bene in questo derby italiano con l'amico Francesco come potete vedere io sono amico di tutti i club in ogni club ho l'amico in questo caso il capo club per specificare allora guarda ti dirò adesso dovrebbe essere ancora c'è un paolo ma quando è che finisce non può essere che è sesso che è sesso è come ferma che sono manco qui non lo so pro fare un blog che se lo fermo con un blocco non lo so è praticamente impossibile fermarlo ma il power c'è non gli finisce più sta durando un po' troppo ha tirato wow come vabbè pariamo 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 no siamo 23 bella raga scusate chi non ho salutato siamo 23 mi raccomando lasciate tutti un po' le visione siamo 21 like siete bravissimi raga grandissimi beh qua non accetto un gol perché sta tirando da mungivacca e non esiste ho capito che Michael però bravo saliras bella 24 con senza preavice senza niente siete grandi raga bella bella ricordo c'è la super chat per aiutare il canale gli abbonamenti che mi hanno fatto il buon Mario e Mary ci sono direstimenti insomma allora qua allora possiamo provare a fare non penso che passiamo qua oddio però un gozzo la potremmo pure saltare e ti dirò che se lo saltiamo qua armiamo un qualcosa di pericoloso per sore si però calza mi cracca la mi craca mi viene addosso pure quando sbagliato nell'aria non so se la palla passa penso che esiste un critico al copaleno potrebbe anche passare e passa la palla passa la palla attenzione perché passa salta pure i calci slenders non restare fermo perché te l'ho data un millimetro dalla bocca muoviti un po' ok 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 eeeh scratch oh meri tesoro grazie per la donazione cara pure non solo l'abbonamento pure la donazione grazie meri tesoro eeeh vai essere due a zero sola grazie meri carissima the best mother of the world allora intanto vediamo qua Italia vis mexico siamo al 43 benji va a seppellir no perché gli abbiamo metto all'inizio il gol non penso che non entra che è pure il critico di vantaggio adesso è molto il pugno bianco ora è 2 a 0 mandiamo uno stickers però l'ha mandato non so perché vabbè comunque ce l'ha mandato eeeh adesso un crack un crack la maglia italiana io tenevo che mi 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 interme io tenevo che aver la maglia del mexico sola disculpa disculpa allora andiamo a vedere che cosa c'è in squadra il nostro amico mexicano sola poi facevo l'associazione all'ultimo così non ci non ci gagna non ci non ci gagna allora vediamo un pochettino cosa c'è panchina la panchina non è molto no cioè c'è la squadra proprio buona però senza panico quindi lui campi non ne fa allora eeeh c'è qualche buon elemento della sua squadra Schneider potrebbe causarci difficoltà sarei quasi tentato di mettere però ci sta pure bene quindi non spostiamo niente però penso di cambiare eeeh penso di cambiare assolutamente il portiere perché perché si va a salir Morisaki e poi basta va bene così dai giochiamocela così dai non abbiamo più nessuno ma ti faccio ridere io un po' Black un attimo oh Sora tu stai tu stas giocando bene stas giocando bene Sora eeeh tu l'equipo mi gusta eh bro ah Margaz eh e beh eeeh Michael 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 allora qua chiaramente lui non ci fa un passaggio o provo a dribblare se provo a dribblare io ci provo a fare il contrasto poi non lo so però me l'ho fatto troppo presto e quindi fa il passaggio ci devo aspettare un po' perché lei se la sta guardando in live e quindi si la panchina non era delle migliori però la squadra di in campo è buona la squadra di in campo è forte la squadra di in campo è più buona della mia eh è un crack Michael beh abbiamo Lord Morisakis ora eh però partendo dalla sotto se riesco a fargli fare più di qualche dribbling pur che finisce no non la finisce infatti ha dato la palla proprio quello che mi aspettavo se giocassi su su ah è andato di quello che mi ha sigillato la la il 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 contrasto giusto infatti volevo portare gozza all'aio perché gozza nulla il dribbling però non posso cacciarlo da mezzo la porta Schneider Schneider è Schneider però è straniero è straniero però quindi siamo sullo stesso colore quindi è proprio potremmo fare un dribbling e poi tiro supremo ha detto tiro eh la bomba è il proiettile di 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 Schneider chiaramente cogli conviene pure lui di iniziare a tirare di più perché purtroppo Morisaki respinge un po' a casaccio lo sapete però vediamo un po' che tiro dai speriamo che la respinge buona qua dobbiamo solo vedere che cosa fa Morisaki ecco come come se siente Morisaki se respinge su uno parare pare cioè parare pare quello sì però se respinge sul nostro compagno su un avversario perché eccolo Morisaki prima farata per lui la palla gozza perfetto good good ok palla gozza 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 per Misugi controlli ah ma c'è in campo l'ha messo in campo perché ha messo questo lì in campo poi non mi ricordo che lo lasciava in panchina non lo so perché ha fatto sto cambio ah per una questione di bond ok ok ho capito per una questione di bond sì 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 ho capito ho capito e non lo so che fare qua e direi di dribbare per alzare il power shot e poi passiamo dopo allora è chiaro che qua adesso noi purtroppo mi ha ingrabbiato è stato proprio perché mi è venuto a ingrabbiare l'enders allora allora una giocata in mente me già mi è venuta devo dire la sincera verità ehm ehm la mamma ne sta sobellando un altro in testa però non sarebbe buona non credo sarebbe buona lo proviamo a fare così intanto lo proviamo a fare così e vediamo che cosa ne viene fuori perché se mi attiro a me calza il problema è che ci ha messo è stato bravo a metterci oguarente a questa parte e ho detto no ahhh ahhh penso che penso che farà lo smarcamento ho sbagliato il passaggio penso che farà lo smarcamento sicuramente comunque quindi infatti sì tecnica spiegata è per noi vabbè ho sbagliato ehi è palla proprio a nita dai dai gozza palla a noi ok holly bella bella questa è bella rimane solo contro voi vieni qua vieni qua non andarsi contro quello proviamo qua c'è perché l'unico modo per provare il passaggio è questo fare due dribbling perché non penso che faccia fa 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 no però ha preso un critico ehi dal nulla e baltrato spero che non la do a Benji sono sincero spero che non la do a Benji sono sincero quella prende bene sì la volevo dare a terra all'endersi per non per non mescere cose ho sbagliato vabbè siamo sempre in vantaggio gli avevamo detto pure a Sona che non avremmo fatto tanti gol nel calcio ma perché la stai giocando su holly adesso perché la partita è carina non è ha mezzo holly al secondo tempo per mantenere il bond al team ma no darla holly sora però sto mantenendo la mia promessa due gol and stop e ora vedremo se sì l'endersi gagne il terzo ma io lo creo forse è mango tra l'altro e ora dipende dipende calze cosa calze è forte calze è bello che è forte in più qui dobbiamo provare a dribblare o a fare uno o due anche se potete tirare tranquillamente però insomma vediamo un pochettino potevo pur tirare secondo me segnavo da qua però proviamo così speriamo che passa no che non lo riesco a fare lo faccio nuovo vedete 3 a 0 lo faccio nuovo lo faccio nuovo ma no l'avrei dato in testa all'enders frange prima facevo il gol prima ma lo faccio nuovo è uguale comunque il primo tempo era stata una partita più equilibrata io l'ho fatto di pura esperienza contropiedi e cose varie il secondo tempo più equilibrata ancora lui ha la squadra con i miei stessi bondi il secondo tempo purtroppo ha fatto le istituzioni che l'hanno un po' penalizzato a sora ma veramente grazie grazie a sarmi hermano per essere friendri per essere friendri match lo che era domani facciamo faremo il video è tomorrow non se io non se tomorrow si non se voglio questo match può come in questo format Ok, bella partita, bella amichevole. Tecchio Sovac di Arsora, muchas gracias hermano por eso fiendri match. Ok, va bien, va bien, me voy a andar a prender en el rango. Sora, muchísimas gracias y complimentos por la partita. Es tarde, voy a conectar. Allora ragazzi, questa era una partita giocata, devo dire la verità, in qualche live fa. Diciamo che è passato un bel po' di tempo. Però avevamo promesso di continuare anche col format del mamma mia le notifiche. Infatti ho lasciato pure il video, immagino quante ne saranno arrivate, mamma mia. Perché il video era molto lungo da registrare, quindi l'ho lasciato a registrare, ne saranno arrivate 3000. E per questo mi scuso in anticipo. Avevamo promesso di portare questa amichevole con il nostro amico messicano, che ci segue in tutte le live, quindi è pure dovuta. E' la terza del format friendly match against subscriber. Quindi, ragazzi, vi ricordo il gruppo Telegram, Cataldo Mugliese, 991 e il tag per contattarmi se volete entrare nel mio gruppo Telegram. E niente, penso di lasciarvi l'iscrizione da questa parte per chi ancora non l'ha fatto, anche se siamo arrivati a superare i 4200 iscritti già e di questo vi ringrazio. E poi, da questa parte, non so, magari un altro video, probabilmente vediamo un po'... Vi lascio l'altra amichevole, alla seconda. Per questo video è tutto ragazzi, ciao!